Gentili amiche e cari amici di Spazio Azzurro, ciao a tutti da Rossano Sambo e benvenuti a questa diretta podcast. Quando si verifica un evento che non può essere compreso o le conseguenze di tale evento non possono essere intellettualmente o emotivamente tollerate, il potenziale energetico ed emotivo dell'evento si blocca all'interno dell'individuo. Detto in un altro modo, in un evento traumatico la paura e il dolore non possono essere gestiti e integrati nel normale flusso della vita. L'energia congelata è trattenuta all'interno del corpo ma all'esterno o ai margini della soglia di consapevolezza. Per comprendere meglio il processo di congelamento che può derivare da un'esperienza traumatica puoi guardare il video intitolato come ricornettersi con le proprie emozioni che trovi sul mio canale youtube. A volte l'energia congelata viene espulsa dal corpo fisico e trattenuta negli strati esterni del campo energetico della persona. Durante una lettura dei registri akashici la si percepisce come un'aura scura, una dissonanza o un peso che grava sulla persona. Lo scopo del congelamento è proteggere, deviare il dolore e fornire distanza in modo che la consapevolezza cosciente dell'individuo non ne sia sopraffatta. Soprattutto in presenza di traumi profondi o eventi pericolosi e violenti questa è una risposta sana, protettiva che rimanda all'elaborazione consapevole dell'esperienza a un momento in cui l'individuo può farcela. Tuttavia nel tempo l'energia congelata può creare strane risposte fisiche, ad esempio dolore, mancanza di sensibilità o intorpidimento oppure risposte di panico innescate da eventi ricorrenti o addirittura innescate da nessun evento, semplicemente generalizzate. L'energia congelata può anche essere la radice di convinzioni personali, storie o paure di cui l'origine è persa. Nel tempo la paura ormai cristallizzata e il dolore possono spingere la coscienza a volere attenzione o risoluzione. Incorporata al di fuori della consapevolezza diretta, la logica dell'intelletto avrà difficoltà a trovare un senso, spiegare o trovare un utile percorso di rilascio. Alla fine la spinta al rilascio diventerà così insistente che la persona cercherà un modo per lasciare andare il gravame e la tensione, che si viene a creare col trattenere ciò che non ha senso logico ma che richiede comunque attenzione. Rilasciare il trauma all'interno di qualsiasi lettura dei registri akashici spesso inizia con il tracciare l'origine della paura e del dolore, riconoscere le esperienze scatenanti e identificare dove si trova l'energia congelata. I registri akashici descrivono quindi il percorso di rilascio che aiuta l'individuo a rivendicare i doni della comprensione e instillare nuova energia per sostenere la verità in questo momento e nel passaggio verso una guarigione e un ritrovato equilibrio. Con coraggio la guida dei registri akashici porta la pace attraverso una chiara comprensione e porta questo alla persona che cerca di liberare la propria paura di risolvere dilemmi di lunga data e rispondere a domande a cui il buonsenso non potrebbe rispondere. Il rilascio alleggerisce il carico, libera i confini della consapevolezza e ripristina l'equilibrio. L'ottimismo ritorna e la vita torna ad essere piena di nuove possibilità e direzioni. Per sperimentare il rilascio del trauma all'interno di una lettura del registro akashico, il punto di partenza sono le tue preoccupazioni e paure, un sottile senso che qualcosa non va, un dolore o un intorpidimento incessante. Queste cose non sono sempre causate da traumi, ma questo è comunque un buon punto di partenza. Concludo questa diretta ricordando che se stai già seguendo delle terapie mediche o psicoanalitiche convenzionali, la lettura dei registri akashici deve essere considerata come complemento e non sostitutivo di queste terapie. Un caro saluto da Rossano Sambo e arrivederci alla prossima diretta.